Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano la presunta possibile emergenza rifiuti che può riguardare la campagna per lo stop al termo valorizzatore di acera di almeno 10 giorni così come annunciato ieri. Dal vicepresidente della regione campagna Fulvio Bonavitacola naturalmente in provincia di Salerno l'EDA e Ecoambiente che sono deputati a gestire la possibile emergenza stanno lavorando ma non ci sono grosse preoccupazioni perché il TMB l'impianto di battibaia che dovrà contenere i rifiuti che non potranno essere portati ad acera ha già subito un'esperienza simile qualche anno fa per un altro stop all'impianto. Attraverso studi e relazioni tecniche c'è una febbrile attività di lavoro all'interno di Ecoambiente il braccio operativo della provincia di Salerno per la gestione dei rifiuti e degli impianti che affianca il lavoro dell'ente d'ambito per prepararsi al meglio alla possibile emergenza rifiuti legata in campagna allo stop annunciato per almeno 10 giorni al termo valorizzatore di acera. Sia il presidente di Ecoambiente Nicola Ciancio che il vertice di Eda Salerno Giovanni Coscia non mostrano preoccupazioni perché forti dell'esperienza affrontata già due anni fa quando l'impianto di acera fu sottoposto ad un intervento di manutenzione. Si conoscono quindi i tempi di sopravvivenza del TMB di Battipaglia l'impianto gestito da Cambiente che dovrà fronteggiare e stoccare rifiuti in attesa di poterli trasferire al termo valorizzatore. Se lo stop per il guasto che interessa tutte e tre le linee dell'impianto di acera ed una turbina dovesse realmente durare solo 10 giorni come annunciato ieri dal vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola in provincia di Salerno ci sono i presupposti per evitare che l'interruzione provochi problemi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Ma è chiaro che si sta valutando anche un piano B nel caso in cui l'interruzione alla lavorazione di acera dovesse protrarsi per più tempo dei 10 giorni annunciati ieri. E parliamo ora invece di un'emergenza che sta riguardando il castello di Arechi dove diversamente da quanto annunciato ieri con una nota nella quale l'amministrazione provinciale ne aveva annunciato l'apertura anche il giorno di ferragosto la provincia ha dovuto fare dietro fronte. Sono sopraggiunti infatti motivi di sicurezza che rendono necessario a partire da oggi la chiusura del castello di Arechi a danneggiare a mettere a rischio l'apertura del castello e l'incendio che ha interessato il Colle Bonea di Esso lo scorso 31 luglio. Un sopralluogo ieri del settore edilizia scolastica e patrimonio dell'ente ha dunque sancito la chiusura per motivi di sicurezza sia per i visitatori che per il personale. Il castello resterà chiuso fino alla totale messa in sicurezza di tutta l'area si regge in una nota diramata invece oggi. Buone notizie invece per l'ambiente perché oggi l'oasi dunale di Capaccio Pestum festeggia 30 anni ed è stata rinnovata la convenzione con la Lega Ambiente. Prendersi cura del territorio non significa solo pulire e tirar via le erbacce, ripassare dopo un mese e controllare che non vi sia spazzatura. E questo lo avevano capito bene i volontari di Lega Ambiente quando un po' di anni fa decisero di prendersi cura di quel pezzo di pineta oggi chiamata oasi dunale che si trova poco distante dall'area archeologica di Pestum. Dopo 30 anni per l'oasi dunale di Pestum gestita da Lega Ambiente, 20 ettari di pineta, macchia mediterranea, dune e spiaggia che accoglie ogni estate. Da giugno a settembre oltre 50.000 persone, fruitori della spiaggia libera, esempio di innovazione ambientale e sociale, modello per la costa italiana. C'è la sigla di una nuova convenzione per la gestione dell'area. A firmarla con orgoglio e soddisfazione questa mattina Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Pestum, Antonio Cuomo, presidente dell'Ente Riserva Fuce Seletanagro, Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania e Pasquale Longo, responsabile Lega Ambiente Pestum, un'attività traintennale iniziata nel lontano 1994 con oltre 1.000 volontari ospitati in campi di volontariato e progetti e oltre 500 richiedenti asilo coinvolti nelle attività. Sottoscriviamo con grande convinzione e consapevolezza questo atto perché non è restato un pezzo di carta. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione un bel pezzo di territorio, 500 metri di spiaggia, ettari di pineta, la duna, però Lega Ambiente e l'Ente Riserva sono stati davvero brillanti, eccezionali nel creare una gestione, un utilizzo sostenibile della risorsa mare, della spiaggia, della pineta. È un modello che va replicato, si può fare, è una spiaggia libera, gratuita, quindi il mare davvero qui è per tutti. È un rinnovo della convenzione ma anche un rinnovo dell'impegno di Lega Ambiente in sinergia con le istituzioni comune e riserva, un modello importante di tutela e valorizzazione di una costa e del suo ecosistema ma anche un modello per provare sempre di più a mettere in campo percorsi di educazione ambientale con gli adulti e con i bambini per il rispetto delle nostre coste. Quali sono le attività che sono state portate avanti negli anni in quest'area? Sono davvero migliaia di volontari internazionali che attraverso centinaia di campi sono stati qui per mettere in campo delle azioni di sensibilizzazione e informazione verso i bagnanti, i turisti e i cittadini ma anche di messa al sistema e di manutenzione di quest'area sempre con un impegno volontario che chiaramente è fondamentale ma che ha bisogno del sostegno delle istituzioni, un modello replicabile, un modello davvero che bisogna valorizzare e che bisogna esportare in campagna e per tutta la costa italiana. Come circolo territoriale della Lega Ambiente interveniamo non solo sulla difesa e la valorizzazione dell'ecosistema Cossiero di cui l'oesidunale ne è una testimonianza, basti ricordare che 30 anni fa questa era un'area abbandonata, una vera e propria discarica, qui vi era uno sterrato in cui parcheggiavano le auto, oggi invece è un'area rinaturalizzata destinata alla pubblica fruizione libera e gratuita grazie all'impegno di centinaia e centinaia di volontari. Ma la Lega Ambiente a Capaccio Pestum è anche attiva nel settore dell'inclusione sociale, da alcuni anni abbiamo dato vita a un housing sociale in cui risiedono 16 ex richiedenti asilo che oggi sono lavoratori autonomi e che vivono all'interno della struttura da noi presa in affitto e che sviluppano il loro percorso di autonomia. E la presenza all'iniziativa anche di Tonino Cuomo alla guida dell'area del Seletanagro è stata occasione anche per rilanciare un appello in sostegno di tutte le aree protette. Riscrivere una nuova legge sui parchi è la richiesta che Antonio Cuomo, presidente dell'Ente Riserve Naturali di Foce Seletanagro e Monti Eremite Marzano ha rivolto alla regione Campania affinché si possa pensare di rivedere lo strumento legislativo capace di dare più attenzione ai territori attraverso un riordino della gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali. Lo ha detto questa mattina a Pestum partecipando all'appuntamento fissato per la firma del rinnovo della Convenzione per la gestione dell'area protetta di Lega Ambiente dell'Oasi Dunale per continuare l'azione di tutela e di innovazione ambientale, sociale e culturale del territorio. Oggi i parchi regionali vivono situazioni di difficoltà che andrebbero meglio disciplinati. Noi siamo probabilmente in un posto straordinario, credo che in Campania questo rappresenti il sito più importante dell'ambiente, della protezione dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile dell'ambiente. Io do il mio apprezzamento soprattutto all'Ega Ambiente che ha dimostrato di avere grande attenzione e di aver capito prima degli altri l'importanza della tutela dell'ambiente nel nostro paese. Spero che gli anni futuri possano dare risposte ancora più concrete rispetto a quello che stiamo facendo in questi anni. Io per parte mia insieme agli altri presidenti dei parchi regionali stiamo lavorando, abbiamo parlato con il vicepresidente Fulvio Bonavitacola per mettere in agenda subito alla ripresa dei lavori dopo la fase estiva, per una nuova legge, per riscrivere la nuova legge sui parchi. Perché noi abbiamo una legge del 1993, molto fuori moda, obsoleta, cioè dove effettivamente c'è poco. Fu scritta in un momento storico anche particolare, venivamo dal periodo di Tangendopoli negli anni 90, quindi secondo me è necessario. Necessario proprio perché se dovessimo chiedere oggi ai nostri concittadini quali sono le preoccupazioni per il futuro della propria vita, della vita dei propri figli, sicuramente metterebbero l'ambiente in prima posizione insieme alla sanità, insieme al lavoro. Quindi stiamo parlando di un settore di grandissima priorità. Rivedere i parchi significa rivedere l'attenzione per l'ambiente e la tutela soprattutto del territorio, anche sulla scorta degli ultimi cambiamenti che sono avuti, anche i climatici. Sicuramente, questo è il fatto principale a mio giudizio, è dare una forte organizzazione per mettere in condizioni anche le associazioni ambientaliste di poter operare meglio. Oggi i parchi vivono ancora in una situazione, i parchi regionali intendo, rispetto a quelli nazionali. Abbiamo il parco del Cilento che ha già un'organizzazione diversa, ha più finanziamenti, può creare condizioni di riqualificazione del proprio territorio. I parchi regionali, come ho detto prima, vivono un momento di difficoltà. Ed è questo l'impegno nostro, quello di stimolare le istituzioni, in modo particolare la Regione, a far sì che noi con l'anno nuovo possiamo avere un nuovo strumento legislativo capace di dare più attenzione a tutti. Il cambiamento climatico non è un problema nostro, è un problema dell'intero emisfero e della terra. Quindi, secondo me, ognuno per la propria parte deve impegnarsi al massimo. Noi lo faremo. Bene, siamo sulla spiaggia perché anche la provincia di Salerno è interessata dalla manifestazione di protesta indetta dal SIB, il sindacato che rappresenta i gestori degli stabilimenti balneari contro il governo. Si chiedono azioni di salvaguardia della balneazione attrezzata e lo si farà domani tenendo chiusi gli ombrelloni fino alle 9.30. Ombrelloni chiusi domani venerdì 9 agosto dalle 7.30 alle 9.30 per attuare il primo storico sciopero della categoria dei balneari che per due ore ritarderanno l'apertura degli ombrelloni per protestare contro l'assenza di risposte concrete da parte del governo nell'annosa querel sulle concessioni balneari. L'iniziativa simbolica promossa dal sindacato italiano balneari sarà seguita anche nel Salernitano dove il presidente del SIB Alfonso Amoroso ha annunciato che aderirà allo sciopero e porterà i gestori degli stabilimenti balneari del territorio ad aprire alle 10.30. Per le aziende che non hanno gli ombrelloni ma tende o altre forme di ombreggio il ritardo riguarderà l'allestimento delle attrezzature in spiaggia. Se dopo l'iniziativa di protesta di domani non ci sarà una presa di posizione dell'esecutivo si tornerà ad incrociare le braccia anche il 19 agosto per 4 ore e poi il 29 agosto per 6 o 8 ore. È quanto hanno annunciato il SIB e la Federazione Italiana Balneari per chiedere al governo di intervenire sui punti ancora da chiarire sull'applicazione della direttiva Volkestein. In particolare prevedere una forma di eco indennizzo per chi vedrà andare via la propria concessione con le gare previste nei prossimi mesi. Il rischio infatti è che senza linee guida chiare da parte del governo saltino senza alcun indennizzo 30.000 concessioni ancora in vigore. La scadenza è fissata a gennaio del prossimo anno quando dovrebbero aprirsi le aste aperte tra l'altro a tutti gli operatori europei e quindi non solo italiani. Domani ombrelloni chiusi dalle 7.30 alle 9.30 per sensibilizzare il governo e per fare in modo che questo governo capisca le esigenze di una categoria ormai vista e tratta da tempo. Non c'è chiarezza perché domani i balneari andranno avanti con questa protesta ma poi ne sono programmate anche altre? Sì, la prossima protesta del 19 di questo mese resteremo chiusi con gli ombreloni per ben 4 ore. Quindi è solo l'inizio di una protesta che andrà avanti così a lungo termine fino a quando il governo non prenderà un provvedimento che ci aveva promesso già da tempo, cioè quello di interessarsi finalmente della problematica della categoria dei balneari. Il nuovo anno si aprirà con i bandi di gara per le concessioni ma intanto non c'è certezza per chi per anni ha gestito, amministrato e curato spazi legati alle attività balneari. Sì, infatti è questa la problematica. Cioè, voglio dire, ci sono queste strutture balneari che sono state realizzate con i sacrifici, con gli investimenti, con gli impegni di questi operatori e fino ad oggi non sappiamo come si andrà a fare queste aste se avranno, voglio dire, questi operatori uscenti un risarcimento per il loro lavoro i loro sacrifici e quello delle loro famiglie se ci sarà un futuro per questi concessionari e ma soprattutto per i loro figli perché il problema grosso non è tanto per gli operatori come me che ormai hanno raggiunto quasi l'età pensionabile il problema è per i figli perché dovremmo dire loro cosa fare se continuare ad operare, quindi a lavorare, a fare servizi in queste aziende oppure trovarsi un altro lavoro probabilmente andranno tutti a fare concorsi e si metteranno tutti quanti a zainetto dello Stato e stiamo cercando di sensibilizzare la nostra clientela che giustamente non ha interesse in tutto questo ma facendo capire loro che l'anno prossimo potrebbe trovarsi praticamente persone diverse magari di un'altra nazionalità a gestire queste attività con costi e con prezzi diversi ok ma questo non è solo questo la problematica la problematica è che si perde un'identità creata vuol dire sulle nostre coste da anni voi pensate che non sapendo come questo è qui dal 68 ma lo era già prima al porto di Salerno lì da Azzurro, il Panfilo, la Renella, il Lido Margherita erano tutti i lì che stavano hanno cominciato nel dopoguerra quindi stiamo parlando degli anni 40-50 giù al porto di Salerno poi c'è stata l'amplia del porto sono trasferite qua a Ponte Cagnano ma sono generazioni e generazioni che portano avanti queste attività si perderebbe proprio questo l'identità di questi eventi balneari parliamo adesso ancora di turismo sotto un altro fronte l'ABAC, l'associazione che rappresenta i BNB e le case affitto chiede alla Polizia Municipale di Salerno che ieri ha scovato una struttura abusiva di continuare su questa strada e suggerisce anche una serie di aiuti come la piattaforma online gestita proprio dall'associazione Andare avanti nella lotta le case vacanze abusive incrociando dati e informazioni lo chiede ancora una volta Agostino Ingenito alla guida dell'associazione Bed & Breakfast e affittacamere della campagna dopo l'operazione che proprio a Salerno ieri ha visto la Polizia Municipale scovare in via mercanti una struttura del tutto abusiva nell'esprimere applauso per la operazione di controllo su una struttura ricettiva abusiva Ingenito ha invitato a continuare l'azione di monitoraggio e controllo sul settore in particolare utilizzando le piattaforme online di prenotazione che consentono di verificare facilmente gli annunci e la regolarità autorizzativa ci si permette inoltre di suggerire un momento di dialogo informativo per dare ulteriori suggerimenti su attività ispettive e controllo scrive l'ABAC in una nota ricordando che l'associazione ha redatto un va de mecum inviandolo ai propri associati per essere in regola e che solitamente consente anche ai nuclei di polizia locale di procedere al meglio alle verifiche l'associazione infine propone anche dei momenti formativi così come è già stata condivisa con altre polizie locali Un operario di 68 anni ha perso la vita oggi in un incidente sul lavoro avvenuto a Scafati l'uomo era impegnato nella costruzione di uno muro di contenimento quanto per cause che sono in corso di accertamento attraverso un'indagine dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore ha perso la vita l'operaio di 68 anni era originario di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli Parliamo adesso invece del ripristino della linea ferroviaria Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni si tratta della linea regionale ferma da gennaio dopo una frana che ha interessato il costone roccioso finalmente c'è una svolta prendono il via i lavori entro 100 giorni i collegamenti saranno ripristinati e c'è stato un botte in risposta anche attraverso i social tra il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante che si intesta la soluzione del problema ed il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone che ironicamente lo ringrazia completare entro 100 giorni gli interventi di contenimento e messi in sicurezza così da consentire al più presto la riattivazione della linea ferroviaria Salerno-Nocera via Cava dei Tirreni interrotta a causa della frana che si è verificata a gennaio di quest'anno al confine tra Salerno e Vietri sul mare finalmente dopo mesi di stallo ieri si è il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone che il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante hanno annunciato la partenza degli interventi di ripristino in seguito alla frana e alla conseguente interruzione della circolazione ferroviaria erano state emesse delle ordinanze di sicurezza alla quale però sono seguiti dei contenziosi con i proprietari del costone roccioso ora però l'autorità giudiziaria ha concesso a RFI di accedere ai luoghi interessati per l'esecuzione degli interventi di ripristino della circolazione e di messa in sicurezza i lavori di demolizione e la realizzazione delle opere di contenimento sono quindi stati avviati e consentiranno di riattivare entro 100 giorni la linea Salerno-Nocera mettendola in sicurezza anche per prevenire il ripetersi di frani e smottamenti un'ottima notizia per il territorio per i tanti pendolari che da tempo aspettavano l'avvio dei lavori e per tutti i viaggiatori ha commentato il sottosegretario di Stato al MIT Tullio Ferrante continueremo a tenere alta l'attenzione sulla mobilità nel territorio ha aggiunto Ferrante a rafforzare il sistema dei trasporti vera chiave per la crescita e lo sviluppo ironico invece il commento del presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone che scrive in un posto su Facebook mostrando il video dei lavori avviati volevo ringraziare il sottosegretario Ferrante per l'indispensabile e costante lavoro messo in atto per l'avvio dei lavori per il ripristino del servizio sulla linea storica nelle decine di riunioni con comune RFI e prefettura la sua presenza è stata indispensabile ad Altavilla Silentina una donna di 68 anni ha accusato un malore mentre si trovava all'interno dell'abitazione dove lavorava come badante ed ha perso la vita e è accaduto questa mattina in località Falagato immediati i soccorsi la 64enne ha accusato un improvviso malore si tratta molto probabilmente di un infarto ma sul suo decesso stanno indagando i carabinieri e adesso parliamo invece del raid vandalico con il quale era stata danneggiata la statua della Madonnina a Cava dei Tirreni attraverso le telecamere proprio i carabinieri sono risaliti all'autrice del gesto lo scorso sabato un atto vandalico si era verificato in via Sabato Celano ai Pianesi quando la statua della Vergine Maria custodita in un'edicola votiva nella zona era stata distrutta dopo l'amarezza diffusasi tra i fedeli e i residenti e le indagini svolte dalla tenenza locale si è giunti a nuovi sviluppi i filmati delle telecamere di sorveglianza sono stati analizzati dai carabinieri per risalire così all'autrice della distruzione della statua si tratterebbe di una donna di circa 60 anni non estranea a simili gesti già compiuti in precedenza nel 2022 infatti sarebbe stata raggiunta da una lettera di diffida richiesta da numerosi residenti tramite l'avvocato e consigliere comunale Federico De Filippis in quell'anno infatti la signora aveva svolto dei lavori che avevano modificato lo stato dell'edicola votiva alzando una recensione e cambiando il lucchetto apposto a chiusura della vetrata dell'edicola e aveva trattenuto le chiavi solo per sé il timore dei residenti riguardava la possibilità di vedere rimossa l'edicola votiva ma l'intervento del consigliere comunale De Filippis ha messo in luce l'iter amministrativo necessario che vede l'obbligo di un'autorizzazione da parte del comune anche per lavori di ristrutturazione ciò nonostante la donna ha compiuto nuovamente l'atto sacrilegio spinta dall'insofferenza verso l'altarino presente sulla facciata di sua proprietà che non ha intenzione di ospitare ma che non può essere rimosso modificato senza il rilascio di un'autorizzazione da parte degli uffici competenti intanto dopo la presentazione della denuncia presso la locale tenenza gli abitanti del luogo hanno istituito il comitato cittadino dei pianesi per la tutela dell'edicola votiva al fine di occuparsi della tutela dell'icona del suo ripristino e anche con l'obiettivo di raccogliere maggiori informazioni in merito al passato dell'altare il tentativo dei residenti in precedenza era stato quello di far rientrare l'edicola votiva tra i beni di interesse storico-culturali ma la sua realizzazione dovrebbe risalire a più di 70 anni fa dopo un sopralluogo sulla zona è stato verificato che la descrizione posta sotto la colonnina risale al 1955 non rientrando quindi nei 70 anni lo scopo del comitato pertanto è anche quello di raccogliere testimonianze al fine di realizzare un dossier per richiedere una nuova verifica la speranza dei residenti è che un simile gesto non si verifichi nuovamente e che l'artefice di quello che è stato definito un vero e proprio sacrilegio paghi le conseguenze delle sue azioni e faccia restaurare la statua inoltre l'invito del comitato va anche ai cittadini di Cava dei Tirreni affinché vengano fornite testimonianze che dimostrino l'esistenza dell'edicola votiva prima del 1955 A Proda in Giappone la storia di Angelo Vassallo è il docufilm dedicato al sindaco pescatore è stato infatti selezionato dall'Osaka Film Festival un'occasione per non abbassare la guardia sull'omicidio del sindaco di Pollica come ha ricordato il presidente della fondazione a lui dedicato il fratello Dario è importante che sulla sua tomba venga scritto finalmente il nome di chi lo ha mandato a uccidere selezionato dall'Osaka Film Festival sarà trasmesso in Giappone il documentario Quel che resta che racconta la storia di Angelo Vassallo il sindaco pescatore ucciso barbaramente è ancora senza una motivazione e un volto il suo assassino realizzato in collaborazione con Luca Pagliari questo docufilm rappresenta un omaggio al sindaco pescatore un riepilogo anche delle attività svolte dalla fondazione a lui dedicata la speranza è che questa proiezione possa rappresentare un passo importante verso la completa verità su chi ha tolto la vita a Angelo e sui veri responsabili di questa tragedia ha dichiarato Dario Vassallo fratello di Angelo e presidente della fondazione Angelo Vassallo sindaco pescatore la memoria di Angelo vive attraverso questo film e attraverso il nostro continuo impegno per la giustizia e la verità ha concluso Dario Vassallo il film racconta le grandi iniziative che hanno mosso l'operato e le attività di Angelo Vassallo che fu definito un profeta dalla stampa internazionale un visionario che ha lanciato la rivolta dei piccoli pescatori rilanciato la filiera dell'oliva ha resuscitato il porticciolo del messà del villaggio di Acciaroli fu lui a istituire un museo vivo del mare nel 2010 firmò un'ordinanza che introduceva multe per chi gettava mozzicone di sigaretti a terra dimostrando un impegno per l'ambiente e la legalità che ha portato Pollica a essere premiata da Legambiente e dal Touring Club Vassallo sindaco per tre mandati e presidente della comunità del parco si è fatto promotore dell'inclusione della dieta mediterranea tra i patrimoni orali e i materiali dell'umanità siamo fiduciosi che l'eco di questa storia aggiunto Dario Vassallo possa raggiungere e sensibilizzare sempre più persone in tutto il mondo le previsioni del tempo poi ci ritroviamo con lo sport in collaborazione con Eureka la tua estate previsioni per domani al mattino sulle coste cielo sereno o poco nuvoloso in montagna cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio sulle coste schiarite ma con velature in montagna schiarite ma con locali temporali previsioni del tempo fornite da 3B Meteo tornati in studio ci occupiamo di informazione sportiva partendo dalle vicende societarie che riguardano la Salernitana che vive giorni complicati Gliervolino vuole tagliare il cordone ombelicale ma non aver garantito un mercato in entrata all'altezza fino a questo momento è stata una scelta poco lungimirante la Salernitana un territorio nel quale i direttori sportivi di turno si siano mossi senza dar conto dettagliatamente al patrone ogni scelta anche quella di passare la mano davanti ad occasioni ghiotte come Dobic non è stata certo presa senza la partecipazione di Gliervolino è anche normale che sia così visto che era ed è lui a pagare a tirar fuori i quattrini però se la competenza e il semplice intuito non ti assistono nella circostanza alla fine non puoi prendertela con nessuno meno che mai con l'ambiente con i tifosi con la stampa ossia coloro i quali l'hanno accolto da Messia permettendogli di finire sulla ribalta nazionale non per i suoi precedenti successi imprenditoriali bensì perché presidente e quindi in qualche modo capo di una sterminata tribù calcistica di Fede Granata così ostinata e forte nel suo sentimento d'aver seguito ovunque anche la sgangherata seppur orgogliosa squadra del Trust che ne prendeva 3, 4 anche 5 ed usciva dal campo tra gli applausi tanto che ad un certo punto fu tutta l'Italia calcistica ad applaudire la tifosieria Granata e a prendere a cuore la sua storia tormentata del resto c'è tormento solo se c'è passione e in quanto ad amore e passione Ierbolino sa bene che i tifosi di Granata possano distribuirne a Iosa essendo il loro portafoglio sentimentale gonfio fino a scoppiare ora però il giocattolo non piace più ma chi l'ha rotto non è senza nome senza volto ora c'è voglia solo di vendere e di voltare pagina sul luscio c'è Gabbetti ma anche e soprattutto ipotesi di gestione a questo o quell'imprenditore il futuro lontano dalla società nella dimensione più rassicurante e confortevole per Ierbolino ma il presente da valle di lacrime fatto di conti della serva e il bilancino del farmacista resta un'immigrazione che una città come Salerno non meritava per colpa di chi più che zucchero questo ritornello è pieno di fiele per i tifosi di Granata ed andiamo ora a vedere il mercato che in uscita è bollente Lotito allerta di A Bradaric piace in Spagna il direttore sportivo Petrachi prova a piazzare tutti i calciatori ma al momento in entrata non può andare su obiettivi di un certo spessore la Lazio ripensa a D.A. ma non vuole fare follie la Sanitana sa che stavolta dovrà accontentare il senegalese ed evitare il braccio di ferro e quindi attende che maturino le condizioni giuste per tutti prestito con obbligo è la via abbastanza segnata e magari alla fine dal Lazio arriverà anche una contropartita per Bradaric si è mosso il Cagliari ma c'è pure il Deportivo La Corugna storico club galliziano che vuole ritrovare le categorie di un tempo Coulibaly vorrebbe andare a Lecce e riflette sull'opzione Sassuolo mentre Maggiore aspetta il via libera per andare via insomma c'è una squadra intera con la valigia senza dimenticare che ha delle cessioni già ratificate la seretana ha ricavato un discreto bottino cui sommare il paracaduto e il risparmio sul taglionetto del Montengaggi Petracchi sta facendo un lavoro notevole e magari non gli dispiacerebbe poter anche firmare qualche colpo in entrata la proprietà però non gli concede margini di manovra sufficienti e commistrati anche al suo valore e alla sua consolidata fama di operatori di mercato abili e l'uniminante lui risiva in campo per la Coppa Italia e Martuscello non ha certo abbondanza di scelte in altre piazze si fa festa per gli acquisti a Saerni invece si è arrivati al punto di rallegrarsi per le cessioni nella speranza finora disattesa che almeno ciò serva a far poi arrivare calciatori di categoria in grado di misurarsi in bico le altre squadre c'è ancora un bel po' di tempo prima che il mercato si chiuda sarebbe bello che Petracchi potesse lavorare con più serenità e margine anche per le entrate è tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione grazie per averci seguito arrivederci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondemand ciao 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 ciao